Domenico Doronzo, perché qui facciamo nomi e cognomi, Domenico Doronzo ha osato sfidarmi. Allora, avete visto che ho fatto quel video in cui vi dicevo guai mai comprare un appartamento da 50.000 euro, adducendo tutte le ragioni, portandovi i numeri e le mie esperienze personali. Ho fatto il video, mi viene andato bene, ho fatto 12.000-13.000 visualizzazioni nel momento in cui registro, e poi sento un messaggino che mi arriva su WhatsApp. E chi è? È Domenico Doronzo, Domenico Doronzo del canale YouTube e anche del profilo TikTok Officine Investimenti, il mio amico Domenico Doronzo, con cui abbiamo fatto tanti video. E mi scrive, sai Francesco io non posso mica essere d'accordo con te su questo argomento. E mi ha spiegato due o tre cosette. Allora gli ho detto, caro Domenico, vieni vieni, guarda ti guardo negli occhi così, vieni vieni, vieni vieni, vieni che facciamo una diretta, una diretta in cui ci confrontiamo sull'argomento. Per cui lui mi ha detto, sai io ho smesso di lavorare con i piccoli appartamenti, non è giusto quello che dici. Ho detto, vieni, facciamo una bella diretta, un bel confronto in diretta io e te, streaming, e ne parliamo. Eh ma sono in nord Europa, perché il signorino non è che se ne sta in Italia come stiamo noi in Italia, no? Al caldo, a lavorare al caldo, inflazione alle stelle, salari bassi, governo di destra. No, lui se ne va in vacanza qualche mese, qualche mese, in nord Europa con il camper, con la famigliora a prendere il fresco mentre noi qua impazziamo. Lui mi dice, quando torniamo dal nord Europa facciamo questo bel confronto. Vabbè, aspettiamo un momento, aspettiamo il signorino che se ne torna dal freschino. Vorrei parlarvi di nuovo di questo argomento, perché è interessante. E di fatto faremo una bella live io domenico, dove ci confronteremo. Non ve la dovete perdere, ve la annuncerò poi su tutti i social quando torna. E torniamo a parlare di questo argomento perché è interessante, perché c'è un caso. Una situazione interessante da valutare nel momento in cui si decide di comprare, si vuole fare un investimento immobiliare e comprare un piccolo appartamento. Cioè ci sono delle situazioni, una in particolare ma poi si declina in vari modi, ecco, nella quale ha senso fare questa cosa. E molto spesso quello che si sbaglia a fare, ecco, è fare un confronto netto tra i mercati finanziari e l'immobiliare. Cioè dire, io non investire mai nell'immobiliare perché è pieno di problemi, l'immobiliare investe i miei soldi nei mercati finanziari che sono meno problematici, più semplici, eccetera. Questo è un ragionamento che ha senso farlo quando hai capitali piccoli, quindi devi scegliere dove investire. E non ti puoi permettere, ad esempio, di investire in un immobiliare fisico, che ha un costo di solito abbastanza elevato, ma chiunque abbia un patrimonio importante non dovrebbe mai tenere tutto nei mercati finanziari. Dal mio punto di vista questo è un grave errore, un po' un'ingenuità, ecco, perché i capitali importanti vanno diversificati in due o tre modi, ma ne parleremo anche di questo. Anche se lo so che non riguarda molte persone, che la maggior parte delle persone non ha capitali importanti, però è interessante ragionare in questi termini. Allora, quando è che può aver senso comprare un piccolo appartamento da mettere a rendita? Beh, devono, come dire, esserci due condizioni particolari. Una condizione è il fatto che tu non abbia i soldi. Cioè, se tu non hai il denaro da investire, allora l'investimento immobiliare può diventare un investimento a leva, adesso ti spiego perché, e quindi a quel punto puoi fare quello che non potresti fare in altre tipologie di investimenti. Cioè, se tu non hai il denaro, se tu non hai questi 50.000 euro, ma vuoi comunque fare un investimento, quello che puoi fare è chiedere questi soldi alla banca. Cioè, le banche danno prestiti per comprare le case, lo sapete, ma, magari le persone non lo sanno sempre, ma non danno solo prestiti per comprare la prima casa, danno prestiti anche per comprare la seconda casa, la terza casa. L'importante è che tu abbia delle garanzie. Cioè, il mutuo protocario è sempre qualcosa che puoi fare con la banca. Quindi, se tu non hai soldi e vuoi investire, usando la leva, perché questa è una forma di leva a tutti gli effetti, l'investimento immobiliare è un investimento immobiliare a leva che ti permette di avere dei soldi che tu non hai e di mettere a rendita. Qual è l'altra condizione, naturalmente, che deve esserci? La condizione è quella che i tassi di interesse sui soldi che ti stanno dando siano bassi. Ecco, in questo particolare momento storico e probabilmente, per come stanno andando le cose, anche per i prossimi anni, non si può sapere quanti, ma comunque qualche anno sicuramente, i tassi di interesse sui prestiti saranno molto elevati. Quindi, se vuoi prendere in prestito i soldi da una banca per comprarti un piccolo appartamento, anche solo da 50.000 euro, da mettere a rendita, al netto del fatto che sai che la rendita comunque non sarà molto elevata, l'ho spiegato nel video precedente, i tassi di interesse devono essere bassi. Cioè, se l'appartamento ti rende il 3,5%, come dicevamo, non puoi prendere i soldi in prestito al 5% o al 4% come adesso. Perché ci perderesti soltanto? e l'investimento non sarebbe sostenibile. Potremmo aprire una parentesi? Perché l'investimento potrebbe anche non essere sostenibile pur di averlo quell'appartamento che poi ti renderà una volta che tu avrai estinto il mutuo, va bene. Ma in generale, diciamo, questo tipo di investimento per essere il più performante possibile, dovresti farlo nel momento in cui i tassi di interesse sono come erano durante il pre-Covid, ecco, diciamo, c'è un po' di vento, scusate, erano intorno al 1%, anche meno anche 0,8%, i tassi di interesse sul denaro che ti prestava la banca erano molto bassi, facciamo l'1%, l'appartamento ti rende un 3,5% sai che con soldi che non sono tuoi, questa è la leva, puoi avere una rendita del 2,5%. Quindi ha senso farlo quando non hai il denaro. Quando invece hai il denaro fisicamente in mano, ecco, l'investimento immobiliare diventa conveniente quando invece è di grandi dimensioni. Più sono grandi le dimensioni, cioè, che ne so, compare un appartamento da affittare a... molto grande con 3 bagni ad affittare a 10 studenti può avere molto senso perché è ottimizzato, qui c'è un calcolo da fare, ma fidatevi, questi calcoli li ho fatti mille volte ed è così. Cioè, l'immobiliare fisico fatto con denaro contante che hai a disposizione ha molto senso quando è un investimento importante, che ha una rendita importante. Quando è che anche l'investimento a leva o anche l'investimento in denaro in un piccolo appartamento ha senso? Quando la rendita di questo piccolo appartamento è molto elevata. Cioè, io ho fatto quel video in cui vi ho detto mai comprare un appartamento da 50.000 euro, ma io stesso possiedo un appartamento che al tempo, quando l'avevo comprato, anni fa, valeva circa un po' di più in realtà, 50.000 euro. Ed è l'appartamento che ho all'Isola Canarie. Però, capite che quella rendita lì è una rendita molto particolare perché conti alla mano rende quasi un 9% lordo e allora inizia a essere una rendita che 9% lorda inizia ad essere molto interessante. Cioè, è addirittura superiore a certi investimenti finanziari. Però, qual è il rischio? Il rischio di avere un appartamento all'estero è molto elevato e ci vogliono condizioni molto particolari. Se riesci a comprare un piccolo appartamento in una zona turistica non molto conosciuta e lo puoi gestire in modo, come si dice, in modo attivo, quindi poi è di fatto un lavoro, poi quello non è un non lavorare, ma lo puoi gestire in modo attivo per esempio affittando la settimana e sei bravo e ti fai pubblicità sui social, su Airbnb, su Booking, su quello che vuoi, allora quel piccolo investimento può avere una rendita importante e hai pochi problemi perché stai affittando turisti. Ma quante sono però le zone d'Italia dove tu puoi comprare piccoli appartamenti per poco dove puoi fare un piccolo bed and breakfast o un affitto turistico, ecco, non sono tante, sono tutte condizioni particolari. Come vi dicevo all'inizio, no? Cioè, ho fatto quel video chiaramente, a giù degli scherzi con domenica adesso, però la faremo quella diretta perché è veramente molto interessante. Nel 95% dei casi è un problema avere un appartamento così e non è un buon investimento, soprattutto se hai già i soldi. Ci sono casi molto particolari e quindi lì chiaramente non dovete percludervi tutte le possibilità perché ogni singola situazione se ben calcolata, ben valutata può nascondere delle opportunità e poi ci sono dei casi dove invece questo tipo di investimento può avere senso. E Domenico ci racconterà come ha fatto lui perché so che ha molti appartamenti messi a rendita e faremo un po' di conti, ci divertiremo e confronteremo poi le mie rendite con le sue e vedremo chi avrà la meglio. Caro Domenico!